cosa fate la patata l'elsa vuoi vestirti da elsa amore però dopo la partita perché dopo la partita ci vestiamo da elsa vuoi andare allo stadio vestita da elsa ma amore ma non puoi andare allo stadio vestita da elsa paloma parkour vai beh se questa non è agilità e riflessi dove è andata paloma dove va bene sarà vicino al cavallo amore vai beh un cane da riporto volevo ringraziare anche tutte le persone che stanno affrontando il tema dello psicologo di base che è assolutamente la nostra battaglia con la petizione che abbiamo lanciato nella petizione noi chiediamo più soldi per la salute mentale nella sanità pubblica ma oltre a questo stiamo chiedendo che visto che ci sono dei soldi stanziati per il bonus psicologo che sono praticamente bloccati di sbloccare quantomeno quei denari lì quindi ovviamente una cosa non esclude l'altra e l'obiettivo è assolutamente arrivare ad avere lo psicologo di base intanto abbiamo superato le 230.000 firme in 24 ore io vi ringrazio di cuore continuate a firmare a condividere la petizione e intanto stiamo preparando l'email da mandare al ministro per chiedere un incontro ufficiale ciao dove vai dove vai ma cosa ma piano non saltare così che ti fai male rimba ma poi sei tutta scordinata piano paloma non saltare paloma 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 basta calmiamoci brava brava non ci provare paloma paloma i bacini sì i morsi no i bacini sì così sì ti azzardare paloma brava vai te lo lancio dammi vai pronta vai no dovevi prenderlo no l'hai dimenticato è lì ma dove vai è lì no devi prenderlo te lo dimentichi ti gasi troppo esatto brava amore ci ho messo mezz'ora ma bravissimo ciao ragazzi sono Federico anche chiamato il dog whisper oggi vi insegnerò come distillare amore dal vostro cane questo è l'amore che queste piccole creature possono donarci questo è il sentimento ah ah cazzo è il sentimento che questi piccoli cuccioli ah 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 è l'amore che questi animali ci possono dare seguite altri consigli del dog whisper per migliorare il vostro rapporto con il vostro cane ahia ca look per il concerto di annalisa con la mia nuova kaya bag effetto shiny croc scusa scusi lei scusi dovremmo fare un massaggio qua ecco Grazie a tutti.